D'accordo. Allora, avete fatto caso a una cosa? Anzi, due cose. La prima, quando c'è stato giustamente il saluto dei poveri truffati o che altro, avete visto? Avevano tutti lo zainetto. Tutti lo zainetto avevano. Ho detto, ma come? Siete venuti con le macchine blu? Abbiamo dovuto noi andare alla polizia a dire, oi guardate che là ci sono gli speculatori della Cayman, ci sono gli speculatori delle borse. Mi raccomando, non date per oggi le multe alle macchine blu perché insomma c'è una manifestazione e quindi tra zainetti e macchine blu. Questo per dire al Paese, guardate che avete combinato una toppa incredibile. queste sono brave persone, sono famiglie che hanno sudato tutta la vita i loro risparmi e li hanno messi lì e dei truffatori li hanno azzerati. Questo è il vero messaggio che si dovrebbe dare al Paese. E non invece l'altro messaggio che stanno dando, primo a quello che vi ho già detto, ma insomma smettetela di speculare, di guadagnare, anziché investire nei BTP o nei BOT. Siete degli speculatori, hanno speculato su le azioni liquide, le obbligazioni subordinate e via andando. Il segnale che stanno dando al Paese è di una gravità incredibile che va oltre, anche se il vostro è il problema da risolvere, ma che va oltre il problema che oggi appunto stiamo discutendo. È contro il risparmio e non hanno ancora capito questa banda di ignoranti. Non hanno ancora capito che la cosa di rompente è il messaggio contro il risparmio. È bene che sono stati qua, e ho finito, perché volevo solo due o tre minuti. È bene che sono stati qua anche quelli di Banca Veneto, di Banca di Vicenza e via, perché ci sono gravissimi problemi anche di truffe e di raggiri, anche in tante altre banche. E allora, caro governo, una sveglia, una sveglia. Bisogna trovare la soluzione, bisogna cambiare le regole. Bisogna mandare a casa chi non ha fatto vigilanza. Banca Italia e Consom a casa. Questo è il punto vero. Banca Italia deve pagare. Qualcuno dice che addirittura deve pagare, ma certo, io sto parlando dei dirigenti a casa. Certo è che Banca d'Italia deve anche pagare, certamente, perché se non abbiamo la soluzione, noi comunque metteremo in campo tutte le iniziative di carattere giuridico, vertenziale, legale. Vogliamo giustizia. Il nostro è un Paese e i lavoratori, i cittadini, le famiglie vogliono giustizia. Ed ecco perché vi saluto con un caldo abbraccio a ognuno di voi per dire che non mi allontano da voi, mi allontano solo fisicamente per preparare, se non ci saranno risposte a breve, una grandissima manifestazione nazionale preparata bene, con pulma in delegazioni, con le grandi varze sociali attorno a questa problematica. Perché questa problematica va vinta e questa deve essere la tavola d'ordine. Ma facciamola! Facciamola, mi raccomando! Il sindaco di Rezzo. Grazie. Allora io sono il sindaco di una delle città che è sede di una delle banche che hanno creato questo problema, di Banca Etruria. Il problema, come tutti voi sapete, è nato con il decreto 183 firmato alle 10 di sera dal Capo dello Stato, che ha azzerato completamente i vostri risparmi. E che ha creato un altro problema. Ha creato il problema di mancanza di fiducia dei cittadini nelle banche, che è un problema che a voi riguarda poco in questo momento, ma riguarda tutto il Paese. Allora io cosa ho fatto? Prima di tutto ho cercato di capire di che si trattava, perché non è stato neanche semplice addentrarsi dentro una terminologia e un tema che non mi è proprio. Anche se il giorno dopo, il 23, quando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ho letto roboanti dichiarazioni dei deputati del Partito Democratico che dicevano che quel decreto aveva salvato le banche che erano tutti contenti di quello che era avvenuto, perché secondo me non ci avevano capito niente, signora. A questo punto io ho fatto una cosa molto semplice. siccome quel decreto l'ha firmato il Capo dello Stato, il Presidente della Repubblica, io ho scritto al Presidente della Repubblica chiedendogli di ritornare indietro su quel decreto, di mettere in pista delle soluzioni che consentissero, attraverso una diversa valutazione della svalutazione dei crediti sofferenti, di ristorare le famiglie che avevano perso tutto. Non mi ha risposto. Non mi ha risposto. Attenzione, la cosa, sono stato due settimane fa a sentire quello che si diceva in piazza Saiacopo ad Arezzo. A questo punto ho convocato i parlamentari del territorio, quelli eletti ad Arezzo e residenti ad Arezzo, e gli ho preparato una lettera per il Presidente del Consiglio nella quale chiedo sostanzialmente due cose. Uno, di rivalutare i crediti per dare la possibilità, senza parlare di fondo di solidarietà, che è vergognoso parlare di fondo di solidarietà. Ma quale solidarietà? I soldi sono i vostri, non sono i loro. E non ne possono dire, si mette 100 milioni o se ne mette 200, perché i soldi sono i vostri, nessuno vi deve fare le nebose. Fermi, fermi. Ai parlamentari eletti ho chiesto di sottoscrivere questa lettera per Renzi, in cui chiedevo questo, ma chiedevo anche delle garanzie per la vendita di banche true e delle altre banche, e cioè che rimanessero radicate nel territorio, che fossero salvati i livelli occupazionali e che soprattutto fossero vendute a banche serie e non a speculatori. Allora, questa lettera, che io ho preparato e che ovviamente volevo firmare e che firmerò, i parlamentari arettini non tutti hanno deciso di firmarla. I parlamentari eretti nel Partito Democratico si sono rifiutati di firmarla. Allora, siccome la mia non era un'azione politica, perché io sono il primo cittadino di tutti i cittadini, compresi quelli che hanno votato il PD, gli ho detto io non vi voglio spaccare. Si fa così, la lettera la firmo io e basta, però una volta che è firmata la portate voi al Presidente del Consiglio, vi pigliate la responsabilità di consigliargli la mano chiedendogli che perlomeno mi risponda. Anche questo è rimasto in forza, ma la cosa più grave è che io ho chiesto che la lettera fosse firmata da tutti i sindaci della provincia di Arezzo, perché più siamo noi sindaci e più forza avete voi. E voglio vedere se i sindaci del Partito Democratico me la firmeranno questa lettera. Io penso di no, perché stanno pervicacemente cercando di sostenere una idiozia che hanno fatto il 22 di dicembre, perché devono salvare la faccia e perché pensano che con questa l'emosina dei 100 milioni di mettervi tranquilli. Rimanete uniti, ma soprattutto per chi non viene da Arezzo, convincete i vostri sindaci a venire in piazza, a metterci la faccia, perché solo se saremo tutti uniti, io ho preso 100 mila di tanti e quindi sono con voi oggi e domani. Un bocca al lupo a tutti. Nel tuo centro TV siamo in diretta da Roma, una manifestazione salva parte. Un grande sostegno ai nostri diritti. Grazie, grazie a tutti. Intanto grazie a Letizia, a Silvia Battistelli e a tutti voi. Voi che le veline della Banca d'Italia, della Consop e dei grandi poteri volevano far passare come speculatori, voi sparmiatori, truffati ed espropriati. Dal Beilin già è stato detto esproprio criminale del risparmio e ieri Ignavio, non Ignazio, Ignavio Visco, il governatore della Banca d'Italia, ha affermato che è stata approvata sua insaputa, cioè che in Europa è stato approvato l'esproprio criminale e che bisogna fare la revisione nel 2018, dopo aver truffato tantissime famiglie, dopo aver messo a repentennio il risparmio, il sudore, i sacrifici di tantissima gente. E oggi un giornalista, un amico mi ha detto che ho dovuto censurare un comunicato, perché io dicevo ieri insieme al mio amico Trefiletti che le lacrime di coccordrillo di questi oligarchi, cleptocrati, truffatori, ladri, sono peggio dei proiettili, peggio di questi criminali. La Consop, ieri anno giudiziario, Milano, scenari probabilistici, Banca d'Italia e Consop responsabili, ma non solo sulla popolare di Vicenza su tutto, arriva nel 2011 Giuseppe Pegas, parte girevoli dal governo, vera vice ministro, va a un convegno dell'ABI, associazione bancaria italiana, non riuscivano a vendere le obbligazioni bancarie, ci sono le curve, non riuscivano a vendere e allora deve abrogare i prospetti informativi e deve dire che i bond, parafrasando i farmaci da banco, erano bond da banco. Noi denunciamo e io mi becco una citazione in giudizio, io, noi insieme a Trefiletti, citato perché avevo già previsto tutto la truffa che ci sarebbe stata, l'esproprio criminale risparmio. Grazie per essere qui perché una volta per tutti dovete far sentire la vostra voce, anzi dobbiamo far sentire la nostra voce perché siamo tutti cittadini indignati anche se noi non ci abbiamo rimesso i soldi direttamente come voi, ma siamo tutti indignati per le cose maletiche che ha fatto questo governo. Questo governo ha steso tappeti rossi ai banchieri e i stessi tappeti li ha usati per nascondere la polvere delle porcherie che hanno fatto. Troppo spesso è successa questa cosa, troppo spesso perché i banchieri ne hanno fatte veramente tante. I banchieri sono una classe un po' particolare, ma come si fa a capire se un banchiere agito bene o agito male? È facile, basta guardare come hanno amministrato i soldi, come li hanno utilizzati, a chi li hanno prestati, con quali garanzie, ma le garanzie ci sono o non ci sono? Non lo sappiamo, non abbiamo possibilità di sapere come hanno prestato questi soldi, però i buchi si vedono, i buchi che hanno lasciato si vedono, le sofferenze che hanno lasciato si vedono. Uno in particolare, ad esempio, guarda caso Cattagirone, un grande gruppo edilizio, ok che questo luce in tutta Italia, ci hanno identificato i nostri porti dappertutto, ebbene basta mettere su Google Cattagirone, Banca Etruglia e scoprite che 60 milioni se li è presi e non sono tornati. Mettete Cattagirone e Banca Popolare e la Carife e trovate altri 50 milioni. Ma allora che cosa c'è dietro? Che commissione c'è dietro tra le banche, chi ci ha governato e questi che hanno preso soldi e chissà come li hanno utilizzati? Insomma è una cosa vergognosa, dobbiamo andare a fondo, ma dobbiamo informarci tutti insieme, dobbiamo leggere bene gli articoli giornali, le poche cose che pubblicano e dobbiamo catalogarle, perché la commissione di inchiesta la possiamo fare tutti noi, tutti insieme, andando a cercare bene le notizie e catalogandole, perché siamo noi che dobbiamo fare la cronistoria di quello che è successo. Sì, abbiamo proposto la proposta di una commissione di inchiesta in Parlamento, è necessario farla, ma noi temiamo che la vogliano utilizzare poi per nascondere le cose come hanno sempre fatto, perché alla fine in commissione di inchiesta chi deciderà se la maggioranza ce l'ha al PD, decideranno loro chi ascoltare come ascoltarlo. E quindi abbiamo paura che la utilizzino ancora per inserbiare le cose, ma noi le cose le abbiamo già dette fin da subito e le soluzioni le abbiamo proposte fin da subito durante la legge di stabilità. Per prima cosa abbiamo chiesto di annullare il decreto 183 2015, quello con il quale vi hanno rubato i soldi. Ebbene, il governo, in 20 minuti, negli stessi 20 minuti che ci ha messo a fare quel decreto, può fare tranquillamente un altro e dire che tutte le persone che ci hanno rimesso i soldi devono essere risarcite immediatamente. E lo sappiamo benissimo che non servono tantissimi soldi, 500 milioni, tutti i piccoli risparmiatori con 500 milioni potrebbero essere tranquillamente risarciti. Non sono tanti soldi, ma è doveroso che vengano utilizzati per fare questa cosa. Ma che cosa ci vogliamo aspettare però da questo governo che ha approvato il Beilin in 448? In 448 l'ha approvato. Hanno fatto la direttiva europea, è arrivata, hanno fatto la legge di delegazione europea ed è stata approvata. Gli unici a opporsi siamo stati noi, gli unici, forse qualcun altro, però veramente siamo stati gli unici a fare presente le cose gravi che erano comprese in questo decreto del Beilin. Eppure il governo ha voluto far di tutto per approvarlo in fretta e furia. Ma come mai ha voluto fare così in fretta? Perché dopo un mese, neanche dopo due settimane, ha fatto l'altro decreto, quello con cui ha piccato il Beilin e guardate cosa è successo. Tantissime persone senza risorse perché sono state rubate da questo governo. Una cosa veramente scandalosa. Noi vogliamo che si faccia luce, vogliamo che si faccia luce su tutto il mondo bancario per far capire a tutti come agiscono le banche. Va tenuto presente il fatto che le banche hanno questa peculiarità, questa caratteristica. Possono prestare soldi, ma in realtà loro possono creare i soldi. Perché se guardate i bilanci delle banche, vi accorgete che ha un totale di raccolta fatta, corrisponde a circa un totale di impieghi fatti. E poi c'è qualcosa in casa, ma sono sempre briciole. Ok, la riservo, ma sono sempre briciole. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che se quei soldi li hanno pestati, quei soldi non tornano, non ci sono i soldi per dare alle persone che li hanno depositati. Che poi noi diciamo deposito, ma in realtà non è un deposito, è un prestito. Quando noi portiamo i soldi in banca, facciamo un prestito alla banca. Quindi otteniamo solo il diritto di essere risarciti, forse. Risarciti, saremo debitori, creditori privilegiati, ma è tutto lì. È tutto lì, non siamo dei veri depositanti. Veramente ragazzi, è scandaloso. Il mondo bancario va visto in modo diverso e va regolato in modo diverso. A partire dalla vigilanza, da Banca d'Italia. Che cosa ha fatto Banca d'Italia in questi anni su queste banche? Non ha fatto nulla. Ha commissariato alla fine, ma anche durante il commissariamento poteva riuscire a mettere a posto le cose e non l'ha fatto. Perché non l'ha fatto? Perché ha voluto coprire quei crediti che ha fatto, ha voluto coprire quei finanziamenti, perché sono dei loro amici. È quello il fatto. Dobbiamo far luce su quello, su vedere dove sono andati a finire i soldi. Tutti quegli impieghi, 8 miliardi e mezzo di sofferenze, ma ci rendiamo contro la cifra, 8 miliardi e mezzo. E poi li hanno valutati a 1 miliardo e mezzo. Per far cosa? Per riuscire logicamente a truffare voi, a truffare i risparmiatori, gli obbligazionisti. Ragazzi, non aggiungo nient'altro. Lascio la parola ai miei colleghi con i quali stiamo facendo un lavoro, a me sembra discreto, in commissione e continueremo a batterci per i vostri diritti, per i diritti di tutti. Ciao, grazie. Maurizio Gasparri, un altro nostro importante alleato. Grazie a voi per l'invito. Non sono qui per fare comizi, ma perché il vostro comitato mi ha informato di questo ulteriore appuntamento e così come quando si era andato davanti alla Banca d'Italia non ho voluto mancare. Ma il problema non è venire solo agli appuntamenti che voi organizzate per far, come dire, non cadere nel dimenticatoio una vicenda vergognosa e scandalosa, ma anche negli altri giorni. Noi dobbiamo impegnarci. E a parte che al gruppo di Forza Italia noi riteniamo che il rimborso delle persone truffate non sia soltanto un vostro preciso diritto, ma sia un interesse pubblico. Perché se questa vicenda si dovesse chiudere con la gente truffata, il sistema delle banche avrebbe, signora, allora io continuo a parlare, vabbè, allora la Banca d'Italia ha, signora, stia calma, chi si deve vergognare? Ma guardi, signora, io sto qua perché noi abbiamo anche fatto la mozione di sfiducia al governo Renzi alla Boschi, vanno dalla banca a parlare e dal padre e dallo zio che hanno fatto le cose che hanno fatto. Ora, se i grillini organizzano le cose così, cari amici, io sono stato invitato da voi per parlare, perché lei evidentemente è al servizio della famiglia Boschi che si è fottuta i soldi con i prezzi della banca, siamo in democrazia e ognuno dice quello che vuole, noi chiediamo che si faccia una commissione di inchiesta, che vuole signora? Ma che cosa vuole? E che cosa vuole? Io, vado da Renzi e da Boschi, signora, e sicuri perché i truffatori si chiamano Partito Democratico che hanno prima svuotato il Monte dei Paschi di Siena e poi la banca d'Etruria vanno a urlare sotto la sede di Renzi, vanno a urlare alla banca d'Italia che manda le veline ai giornali per dire che se ne era accorta e se se ne era accorta doveva impedire la banca d'Etruria e le altre banche di truffarvi e allora andiamo a cacciare a cacciare il sedere, visco la famiglia Boschi e gli altri, noi chiediamo che si restituisca fino in fondo perché altrimenti le banche non potranno trovare più nessun cliente, dopodiché i grillini che urlano si preoccupino di Grillo condannato per omicidio, cari amici, quindi questa è la realtà, dopodiché noi andiamo, mi dispiace, quindi noi andiamo fino in fondo condizione di inchiesta, sfiducia al governo e la banca d'Italia, dopodiché cara signora se alcuni pensano che i responsabili, signore 25.000 euro, vada a casa della Boschi a farsi limitare dal babbo e dal fratello, noi andremo avanti perché è giusto tutelare i risparmiatori e gli infiltrati vanno a banca d'Italia a leccare le suola a Vincenzo Visco. Scusate, vi permetto di ricordare che Forza Italia, insieme a Movimento 5 Stelle, sono nostri alleati, quindi non ne facciamo una battaglia politica, non sono loro che ci hanno fregato i soldi, veramente, io questo vi prego di ricordarvelo, siamo scesi qui in piazza insieme, non siamo qua per fare politica, siamo qua affinché i nostri diritti vengano rispettati, a me non interessa destra o sinistra, sicuramente questa è una sinistra che non mi piace, ma quella che è il governo, non certo Forza Italia, scusatemi, e non per appoggiarli, ma non certo Forza Italia è stato il nostro nemico, ricordiamocelo, 5 Stelle, noi non dobbiamo assolutamente diventare una forza politica, noi lo siamo. Allora, il primo blog, professor Rinaldi, eccoci, grazie, io sono qui come semplicissimo cittadino, però ho un blog che è il primo blog in economia in Italia, abbiamo sposato da molto tempo la causa, perché? Perché sono state fatte delle porcate, scusatemi, io sono romano e parlo in linguaggio romano, ho sentito dire da molti, ah, persone incompetenti, no, non sono incompetenti, sono dei grandissimi figli di puttana, avete capito? Primo, seconda cosa, io vorrei vedere gli amministratori, almeno di queste quattro banche, le vorrei vedere in galera questa gente, perché? Ma siamo ancora il paese in cui se si ruba una mela si va in galera e se si truffa la gente e si fregano soldi non si va in galera? Questo vorreste capire, perché la magistratura non inizia a far sentire le manette? Io le vorrei vedere, anche perché è gente che quando è uscita ha avuto degli scivoli, si chiamano così, di diversi milioni di euro, compresi pure i vostri, poi quando si dice state tranquilli, perché c'è il fondo di tutela depositi, il quale garantisce i depositi sotto i 100 mila euro, non è vero, lo sapete perché? Perché il fondo, che è un fondo privato, attenzione, privato, non è pubblico, è privato, che è alimentato dai contributi di tutte le banche, proprio per evitare che si crei una situazione di questo genere, copre a malapena il 0,40% di tutti i depositi, quindi se salta una banca media, questi soldi del deposito interbancario non sono sufficienti per poter pagare un bel niente, quindi ci hanno preso in giro, grazie Europa, ma non ci doveva tutelare l'Europa? Allora io vorrei che i vari Presidenti del Consiglio non eletti che si sono alternati qui a Palazzo Chigi, invece di andare in Europa a tirarsi giù le brache, perché fino adesso si sono tirati giù le brache, facessero esattamente le stesse identiche cose che fanno gli altri partner europei, perché Renzi invece di correre di corsa il 22 di novembre nel fare il famoso decreto 180, non ha detto, cari signori, nell'interesse nazionale, nell'interesse del risparmio, è previsto dalla Costituzione l'articolo 47 che dice che la Repubblica tutela il risparmio sotto ogni forma, non sapete che cosa vuol dire? Non vuol dire soltanto BOT, BTP e CCT, ma qualsiasi cosa, tutto, compreso azioni, obbligazioni, obbligazioni subordinate, tutto è considerato risparmio tanto da essere tutelato dalla Repubblica Italiana, l'Operità della Costituzione, ebbene Renzi avrebbe dovuto dire, nell'interesse nazionale, visto che in Italia è rimasta solo ed esclusivamente la fiducia degli italiani nei confronti del sistema bancario, e vi ricordo che una volta eravamo i più grandi risparmiatori del mondo, io non posso permettere che la gente in Italia venga fregata, quindi c'è l'intervento dello Stato, poi se in Europa dicono di no, gli si risponde chi se ne frega, questo bisogna dire, anche perché abbiamo visto che quando si tratta di fare i porci comodi degli altri, li fanno in coma, guardate Schengen, Schengen nella mattina e sera sospeso perché è nell'interesse nostro, e noi non siamo in grado invece di tutelare i cittadini italiani? Ma che siamo impazziti? Allora, mi dispiace, io avevo capito quando ancora non avevo capelli bianchi in testa, che l'Europa era dalla parte nostra, non era contro di noi, qui invece ci siamo accorti che qui ci stanno fregando, non hanno messo i cittadini al centro di interesse, ma l'interesse delle banche, delle multinazionali, riprendiamoci le chiavi di casa prima che è troppo tardi, altrimenti saremo massacrati, dopodiché sempre il nostro caro amico Renzi, si fa per dire chiaramente se non mi sparate, il 31 di dicembre avrebbe dovuto dire, cari signori c'è un bel consiglio dei ministri prima di andare a festeggiare il cenone e da domani è sospesa l'applicazione del bailin in Italia, si ne die, fin tanto la situazione non è modificata, è ancora peggio l'hanno anticipato, voglio dire un'ultima cosa, voglio dire un'altra cosa, ieri il governatore dal Banco d'Italia se ne è uscito dicendo, bisogna rivedere, scusate la mia romanità, ma fino adesso che cazzo ha fatto questo, scusate, ma queste sono cose che si sanno già da due anni, non è che il 21 mattina di novembre si sono svegliati, oddio la banca è combinata male, si sa da tanto, da tantissimo, la Consob che cosa ha fatto la Consob, si tratta anche di società che erano quotate, signori, e nessuno sapeva niente, hanno cambiato presidente, nessuno sapeva nulla, lo so, allora a questo punto, per evitare di essere espropriati ulteriormente, dopodiché, ultima cosa, il governo dice adesso troviamo il modo di poter trovare una situazione quasi come un'elemosina che viene fatta nei confronti, qui nessuno chiede l'elemosina, qui tutti quanti chiedono che vengano rispettati i propri sacrosanti diritti perché è gente che ha lavorato, ha pagato le tasse e aveva questi quattro soldi di risparmio e gli sono stati portati via da dei figli di Mignotta, quindi per cortesia siate uniti perché uniti si vince tutti insieme, si riesce a vincere contro questa gente, altrimenti andrete nel dimenticatoio e non rivedrete, né per voi né per i vostri figli, neanche una lira, grazie. Bravo! Alberti Villarosa, Movimento 5 Stelle. Ciao a tutti, io sono del Movimento 5 Stelle ma non sono qua per il Movimento 5 Stelle, io sono un cittadino normale che sta cercando di difendere una causa giusta, fate abbassare la paga a tutti, pure a quello di prima, l'abbiamo chiesto in tutti i modi, fate abbassare la paga a tutti e poi c'ha diritto di venire qui a parlare, se no non c'ha diritto a 20.000 euro al mese, voi non riprendete 20.000, riprendete molti di meno, tutti 5.000. non facciamo una ragione politica, qua ci sono persone, no no, si figuri sta dicendo una cosa che va a mio favore, ma non è questo il tema di oggi, il tema di oggi è questo. Mancava solo lo zio, il tema di oggi è questo. Voi dovreste pagare i danni e i favori fatti agli amici degli amici dei banchieri, dei titolari di queste banche e dovreste pagarle voi, perché secondo il Belin succede questo, una banca va in crisi perché ha fatto il favore a De Benedetti, ha fatto il favore allo zio, al nipote, al fratello, al cugino, che poi non hanno ripagato debiti da 500.000 euro in su, non debiti da 10.000 e da 20.000, da 500.000 euro in su, poi si va nei salvatanai dei cittadini che non c'entrano niente con la gestione di quella banca e si azzerano, e si azzerano risparmi di una vita perché queste persone non hanno mai lavorato come voi, come noi in passato, perché io non vengo dalla politica, io mi sono rotto la schiena prima di arrivare qua, mi sono fatto un'azienda, ho lavorato ovunque, notte, giorno, come voi, come voi e quei soldi ve li siete sudati, e loro arrivano un giorno di notte, arrivano di notte e saccheggiano azzerandoli, ma non solo azzerandoli perché ve li hanno levati dalle mani, non solo li hanno azzerati, non avevate più l'azione e l'obbligazione in mano, questo è un esproprio, e allora io vi dico una cosa, la battaglia è lunga ma la vinceremo, la vinceremo per un semplice motivo, lo sapete perché? E dovete mettervi su internet a ricercare, dovete informare anche quelli che sono vicini a voi e devono andare da quelli del PD a tirargli la giacchetta con calma, senza arrabbiarsi perché se no si va nel torto, gli si tira la giacchetta e gli si dice, scusatemi, il 22 avete fatto questo decreto, giusto? Andate a vedere il decreto o ciò che è legge di stabilità, il decreto richiama un provvedimento di Banca d'Italia del giorno prima, del 21 novembre, allora tirate fuori questo documento e andate a fare ricorso al TAR tutti, oltre agli esposti perché devono finire in galera, come ha detto qualcuno, devono finire in galera e lo dico da parlamentare, devono finire in galera, li voglio, tutti in galera, perché quella cosa di cui si parlava prima, rubo una mele e vado in galera, rubo 200 milioni di euro però con truffa perché sono bravo e sto raggirare le persone e non vado in galera, questa cosa deve finire. Il provvedimento di Banca d'Italia dice una cosa, voi sapete che Banca d'Italia si deve muovere secondo la legge, non è che domani si può svegliare, prende i nostri depositi, anche quelli sotto i 100 mila euro e li azzera, non lo può fare, giusto? Fa il provvedimento e scrive faccio questo ai sensi del, faccio questo ai sensi del, faccio questo ai sensi del. Nel decreto non c'è l'azzeramento dei vostri risparmi, non c'è, cercatelo, non c'è scritto, si richiama questo documento, allora Banca d'Italia scrive a un certo punto, io azzero i risparmi delle azioni e delle obbligazioni, ai sensi dell'articolo 52 del decreto questo sul Belin, il 180, non il 183 il vostro, il 180, quello del 16 novembre. L'articolo 52 non era applicabile, non era applicabile, questo signore è un principio costituzionale, l'articolo 23 della nostra Costituzione dice lo Stato, nessuno può obbligare, obbligare a un impegno personale o patrimoniale, gli hanno obbligato ad avere un impegno patrimoniale, cioè usare i vostri soldi per ripienare i debiti della banca, se non ai sensi della legge. Il decreto sul Belin all'articolo 106 l'ultimo dice, tutto entra in vigore il 16 novembre, ma dall'articolo 48 all'articolo 59, quindi anche il 52, entra in vigore dal 1 gennaio 2016. Quell'atto è illegittimo, illegittimo, è illegittimo. Perché se domani ci fanno una norma, avete l'Euro 4, abbiamo tutti quanti un'auto Euro 4, fanno una nuova norma, bisogna cambiare, c'è troppa emissione, allora facciamo una norma e trasformiamoli tutti in Euro 6, o hai un Euro 6 o non cammini per strada, secondo voi sarà applicabile dal giorno dopo? No. Diranno dal 2018, se no di pignò, di sequestro l'auto, di sequestro l'auto. Se arrivano da voi il giorno dopo e vi sequestrano l'auto, è illegittimo o è illegittimo? È illegittimo, perché signori veramente ve lo dico, e ho il coraggio di dirlo, se questo principio passa e la Corte Costituzionale non boccia questo del Vreda non vi dà i soldi, io mi dimetto e facciamo una rivoluzione tutti quanti insieme. E basta! 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 Buongiorno a tutti, allora io vorrei fare una domanda qui in tutto, l'associazione esiste, giusto? L'associazione Vittime del Salva Banca esiste? No, perché in Commissione Finanze l'altro giorno, settimana scorsa, abbiamo chiesto di audirvi, di sentirvi. Volevamo che voi veniste da noi a raccontare cosa è successo all'interno del Parlamento. Sapete cosa ha risposto Petrini del PD? Ha detto ma questi chi sono? Chi sono? Non è che possiamo chiamare tutti in Commissione. Petrini del PD, questo è il PD, il PD che vi prende per il culo dalla mattina alla sera. Questa battaglia che voi state facendo non è solo una battaglia per ripristinare un diritto che vi è stato violato. Non è solamente una battaglia per riportare nelle vostre tasche, nei vostri portafogli, quello che vi è stato rubato da un decreto di delinquenti, da un governo di delinquenti. Ma la vostra battaglia che state facendo in realtà va oltre. È una battaglia contro questo governo, perché questo governo ci sta perdendo la faccia. si è reso conto di aver fatto una cazzata pazzesca e ora non sa più come risolvere il problema. E forse il problema, o meglio, quello che noi speriamo è che oggi questa piazza, oggi sì, è così, non è piena, ma tra qualche giorno, tra qualche mese, forse spero prima di un anno questa piazza sia tutta piena, perché tutti devono capire cosa sta succedendo, qual è il danno enorme che sta facendo questo governo. La battaglia quindi deve essere un governo che sta facendo un danno dietro l'altro. Oggi, lo sentite, è un mese che il governo sta andando in giro per l'Europa a insultare la Merkel, a insultare gli euroburocrati, Renzi che se la prende con la Merkel, se la prende con l'Europa, ma è tutta una pagliacciata, è tutta una finta, è un fantoccio, è una commedia che sta recitando perché ha bisogno dei voti, ha perso i vostri voti e adesso deve andare a cercare i voti di quelli degli euroscettici, quelli che ce l'hanno con la Merkel, perché in Italia fa sempre bene dire una battuta, dire che la Merkel ha il culone, fa sempre bene perché prende voti e quindi lui sta recitando questo giochetto, ma lui sta perdendo la battaglia più grossa, la battaglia più grossa se si combatterà nel 2017 quando dovrà fare una finanziaria di lacrime e sangue, lì lui perderà tutto, perderà tutto quello che ha costruito fino adesso, tutti i regalini che ha dato alle banche, che ha dato con gli 80 euro e 500 euro alle forze dell'ordine e 500 euro agli insegnanti, questa è la sua battaglia che sta perdendo, ma la sta mascherando sotto forma di una battaglia contro l'Europa, l'Europa non vuole che noi salviamo i piccoli risparmiatori, perché sta dicendo questo, il messaggio che sta facendo passare in Europa e in televisione è questo, che lui sta lottando per i vostri diritti? Questo signore è un buffone ed è un delinquente e lui come tutti i responsabili della vigilanza sulle banche devono andare in galera come è già stato detto, ma devono andarci veramente e non deve dirmelo uno, uno signori, uno che ha governato la Banca d'Italia e la Consob non esistono da ieri, dall'altro ieri, dal 22 di novembre, non esistono dall'altro ieri, esistono da decenni e chi ha governato e aveva il potere di mandarli a casa non l'ha fatto, non può venire su questo palco a dire che devono andare in galera, questa cosa è inaccettabile, lo dico io, perché io sono entrato in Parlamento due anni fa, onestamente, senza essere mandato da nessuno, senza dover rendere conto a nessuno e io posso dirlo, ho visto il decreto che hanno fatto, ho visto le porcate che hanno fatto e noi del Movimento 5 Stelle possiamo farlo, quindi ora non devo fare un comizio, però questa cosa qua dovevo dirla, io chiudo qua, perché mi sono già abbastanza alterato sentendo alcune parole di prima, ma vi chiedo veramente, rimaniamo uniti e cerchiamo, e lo dico più che altro a me stesso, di andare oltre alle diversità politiche dei miei colleghi e di lottare tutti insieme, alcuni utilizzeranno questa battaglia in modo speculativo, sì, per guadagnare voti, però l'importante è che ci siano quando ci sarà da votare, dico l'ultimissima cosa, Renzi, lo dicevo prima, sta recitando una pagliacciata, una commedia, lui sta dicendo che vi vuole difendere, bene, vi vuole difendere, vuole difendere i piccoli spagnatori, le piccole banche, perfetto, abbiamo depositato una mozione che chiede l'entrata in vigore, di spostare l'entrata in vigore del Bellin al 2018, quindi prorogata tra due anni, tra l'altro una proposta che ha fatto anche ieri Visco, bene, noi abbiamo fatto questa mozione, che Renzi chieda di portarla in aula, che Renzi la voti, che Renzi la approvi, che la attui, vediamo se è in grado di farlo e vediamo se le sue parole sono solo, è solo fuffa, oppure è vero c'è dietro qualcosa di concreto, perché se fa a provare una cosa del genere, allora vuol dire che si mette nettamente contro all'Europa e alla BCE e contro Draghi, vediamo se ha il coraggio di farlo, secondo me non avrà il coraggio perché è solo fuffa quella che sta raccontando, grazie. Vincenzo Lacroce, Associazione per Banca Etruria. Buongiorno a tutti, dopo aver letto quello che ieri ha espresso il governatore, devo dire che sono rimasto quasi scandalizzato, Elio D'Annutti in un articolo di ieri sera che ho letto, veramente ha descritto una situazione che è drammatica, ma non si vergognano ancora, veramente, perché stamattina sul sole 24 ore il governatore non aveva letto quasi nulla su quello che è successo alle quattro banche, fatte fallire a tavolino e dopo lo spiegherò, fatte fallire a tavolino soprattutto banche Etruria, quindi non fare alcun riferimento a tutti quei risparmiatori che hanno perso i soldi è una cosa vergognosa. ha chiesto il rinvio a giugno 2018 dei Beilin e allora deve annullare i quattro provvedimenti che ha fatto il 22 novembre del 2015. Perché li deve annullare? Perché come hanno detto in molti qui la vigilanza è stata carente assolutamente in questo periodo. Io mi sono occupato di banche Etruria dal 2009 perché quando ero libero da conflitti di interessi ho deciso di intervenire nella banca della mia città non tanto perché avevo le mie mille azioni, ma perché rilevavo dai bilanci, perché l'avevo seguita per tutta la mia carriera di banca che avevo fatto, l'avevo seguita per 37 anni, la seguivo per lavoro. Io ho rilevato nel 2009 che già in quel passaggio che c'era stato tra le due presidenze di Elio Faralli e poi dell'ingegnere Fornasari c'era stato qualcosa che non tornava. Il 2010 c'è stato signori un'ispezione di vigilanza che è stata, a quanto so io, molto dura. Beh, dopo nel 2011 l'avvio di procedura sanzionatoria è stata archiviata perché nel 2011 io insieme ad altri amici, a Rossano Soldini e a tanti altri cittadini ci siamo scontrati, abbiamo messo la faccia, abbiamo fatto una lista alternativa a quella dei vertici di allora. Siamo stati sconfitti perché voi sapete come funziona nelle popolari, funziona in questo modo, perché che ne dicono i dipendenti hanno raccolto quasi 7500 deleghe, insomma, quindi per carità, noi abbiamo messo la faccia perché volevamo dire proprio che Banca Etruria era in grave difficoltà, ma non era in grave difficoltà per come poi siamo arrivati al fallimento disposto dalla vigilanza di Banca Italia. Banca Etruria c'è stata successivamente un'ispezione da 2012, una settoriale ai crediti finita a marzo con un rapporto durissimo, è stata poi estesa a tutta la banca che è poi è finita il 6 dicembre 2013. Io il 28 luglio 2013 ho mandato una relazione di 10 pagine che non ho mai reso pubblica ancora perché ci sono anche nomi e cognomi, ma che porterò con un esposto nei prossimi 15 giorni a Roma, a Dottor Pignatone, perché noi preferiamo presentare questo esposto a Roma perché qui è la sede della Banca d'Italia. Perché a mio giudizio la banca andava commissariata il 6 dicembre del 2013 contestualmente alla consegna del rapporto ispettivo, perché abbiamo visto da quel rapporto emergevano cose molto gravi, le sanzioni sono state anche abbastanza significative, invece si è preferito far continuare la banca che era già in gravi difficoltà, già durante l'ispezione del 2013 sono state emesse qua circa 120 milioni mi dicono di presti subordinati, quelli che poi hanno azzerato a tutti voi. Quindi sinceramente c'è stato fatto un aumento di capitale deliberato l'11 novembre del 2012 ma realizzato a giugno e luglio 2013 in corso di ispezione, quindi queste cose sono notorie, si sanno tutte, ma arrivo velocemente a quello che è successo in data 22 novembre. Perché è questo? In data 22 novembre Banca Etruria aveva ancora un capitale netto positivo per 22,5 milioni. Ho finito da poco di leggere, perché siccome Banca Italia è il liquidatore il professor Santone ha chiesto l'insolvenza di Banca Etruria, io dico che Banca d'Italia non poteva assolutamente dichiarare il fallimento di Banca Etruria, lo hanno fatto perché dice volevano salvare gli altri correntisti, ma ancora c'era la possibilità di salvarla, perché noi abbiamo chiesto ai commissari tre volte l'incontro perché volevamo proporre se dovevate arrivare a questa situazione, allora che potete fare? Sì, azzerate le azioni, ma date diritti di guardo per 0,10 centesimi, su 217 milioni di azioni, con 21 milioni, che era il patrimonio ancora disponibile, si poteva far partecipare agli azionisti, è un aumento di capitale di 200 milioni, e poi se dovevate azzerare gli obbligazionisti, dovevate chiamare trasformiamo i 252 milioni azzerati dal Fondo di risoluzione nazionale in capitale, c'erebbe stato un capitale di 452 milioni rispetto ai 4,42 che invece hanno contribuito, ma Banca Etruria, lo ripeto, non doveva fallire, noi abbiamo già chiesto, io ho presentato al Tribunale d'Arezzo questo lunedì, se potevamo costituirci, perché noi vogliamo che da questa insolventa risulti non solo, diciamo, le responsabilità degli amministratori, ma anche quelle di Banca Italia, perché Banca Italia, dimostrabile, ha fatto fallire Banca Etruria a tavolino, quindi assolutamente, diciamo, noi lo abbiamo chiesto, in Camera di Consiglio noi non ci potremmo essere l'8 di febbraio, però assolutamente noi la memoria la presenteremo, io l'ho fatta ieri sera, la presenteremo, noi incalceremo i fallimentari, non ce l'accetteranno, ma dovranno sicuramente dare la possibilità che tutti i creditori, tutti, io sono creditori, ero azionista, ma le ho ottenute le mie amministrazioni soltanto per intervenire in Banca Etruria, perché io lavoravo, e lo dico, ho lavorato per 37 anni in Banca d'Italia, gli ultimamenti all'Ispettorato Vigilanza, quindi un po' le ispezioni li seguivo, mi interessavo, c'è, assolutamente ritengo che c'è stata una vigilanza assolutamente carente, quindi qualcuno ne dovrà rispondere, come associazione abbiamo deciso che presenteremo questo esposto anche a Roma, perché molti più, tantissimi saranno gli esposti anche ad Arezzo, penali, e sicuramente alla fine le varie procure dovranno prendere in considerazione queste denunce, perché qui Banca Italia si poteva già muovere durante il commissariamento, sapete che i commissari potevano già iniziare un'azione di responsabilità, non hanno fatto niente, ecco, anche il commissario liquidatore che ha chiesto ora, ha fatto ricorso all'insolvenza, ecco, poteva assolutamente chiedere già l'azione di responsabilità, speriamo che prima o poi la facciano, grazie. Buongiorno a tutti, siamo qui per far sentire la voce degli azionisti privati di Banca Marche, gli azionisti, 43.000 azionisti e obbligazionisti che un decreto scellerato hanno ridotto nella miseria nell'astrico, hanno impoverito un territorio. Ora ci vogliono far passare per speculatori, ma speculatori non lo siamo, siamo sempre stati risparmiatori, abbiamo acquistato azioni e obbligazioni di Banca Marche per aiutare il territorio, perché? Per far crescere la nostra banca che avrebbe poi distribuito sul territorio e avrebbe affidamenti alle industrie e alle famiglie per far crescere l'economia. Questo è quello che ci hanno detto, ci hanno detto sempre che la banca delle Marche era una banca solida, che le azioni e le obbligazioni erano al pari dei bot, questo poi se ne siamo accorti solo alla fine che è stata una truffa, una vera truffa, siamo stati derubati di tutti i nostri soldi. Noi vogliamo essere risarciti di tutti i nostri soldi, non vogliamo l'elemosina di Stato, vogliamo tutti i nostri soldi, tutto quello che abbiamo perso, faremo di tutto, lotteremo in tutte le sedi e non ci stancheremo e si sbagliano se credono che noi ci stancheremo perché lotteremo fino alla fine, dopo di noi lotteranno i nostri figli e i nostri nipoti. Grazie. Eccoci qua, abbiamo con noi Giacomo Rossi, fronte azione popolare Pesaro Urbino, coordinamento civico Marche. Buongiorno a tutti, io non sono stato truffato, non ho perso niente ma abbiamo creduto opportuno di essere qui vicino a voi come coordinamento civico, come movimento civico e abbiamo portato dei cittadini truffati della nostra provincia Pesaro Urbino e crediamo che questo messaggio debba essere sparso anche agli altri, anche ai vostri vicini di casa. In primo luogo questa è una truffa vera e propria, in secondo luogo perché qui si va a depauperare degli interi territori, si va a togliere economia a degli interi territori, in terzo luogo perché credo che questo sia l'inizio, solo l'inizio di una truffa legalizzata che purtroppo secondo me riguarderà anche altre banche e non darvi il giusto risarcimento, non ridarvi i soldi, molto probabilmente dimostra questo fatto. Sarà l'inizio della fine. Io faccio un appello, se si parla di truffa è bene che la magistratura intervenga, intervenga una volta per tutte, è bene che la cariatide cotonata, il Presidente della Repubblica intervenga, c'è un'intera parte di nazione truffata ed è ora che il Presidente della Repubblica intervenga. lancio un appello alle associazioni di consumatori, state unite, stiamo uniti, non dividiamoci, non dividiamoci in centomila manifestazioni, stiamo uniti, non tuteliamo i nostri interessi di parte ma stiamo uniti. È quello che possiamo fare noi, tutti noi veniamo da qualche paese, da qualche città, facciamo pressione ai nostri sindaci, facciamo pressione ai nostri deputati, ai nostri senatori eletti nel territorio. E qui veramente vorrei fare un complimento al Sindaco di Arezzo, l'unico primo cittadino che ci ha messo la faccia. È la prima volta che lo vedo di persona ma è stato l'unico che è venuto qui a metterci la faccia. e poi perdonatemi anche un ringraziamento a Letizia che naturalmente in maniera gratuita e disinteressata ha organizzato tutta questa manifestazione. Credo che un applauso sia dovuto. Grazie. Guardi, io devo ammettere una cosa qui davanti a voi, che un po' interessata lo sono, perché anche a me hanno portato via 100.000 euro, quindi diciamo che sto portando oltre che i vostri interessi anche i miei, sono veramente insieme a voi e in piazza insieme a voi. Rispettiamo quindi la scaletta, chiamiamo qua sul palco Federico Pennacchioni, popolo dei consumatori. Grazie Letizia. Buongiorno a tutti. Vendevano alla gente prodotti inadatti, non l'ho detto io, non l'ha detto la nostra associazione di consumatori, l'ha detto il commissario europeo ai servizi finanziari. Questo mi sembra che ce la dica lunga sulle operazioni che sono state fatte e che hanno portato a questo risultato. D'altronde noi pensiamo che l'Europa non per forza vada sempre bene, non è sempre... ce lo dice l'Europa, ce lo dice quando dobbiamo sostituire il parmesan australiano con il nostro parmigiano e adesso non va bene che ce lo hanno venduto, non vadano bene? Bene. Allora, è come se vi avessero sfilato il portafogli dalla tasca, la stessa cosa. Al nostro numero verde stanno arrivando dei casi incredibili di 85 anni agli quali hanno fatto svincolare i bot per acquistare azioni subordinate, ecco, obbligazioni subordinate. La signora conferma. Allora, quello che io posso dirvi è non state con le mani in mano. Il 23 febbraio scadono i termini per le denunce per truffa. Qualora qualcuno di voi ritenga di essere stato truffato, che abbiano modificato il vostro Mifid, che abbiano messo firme che non c'erano, che hanno messo una crocetta alla laurea quando qualcuno invece magari c'è la terza media. Legittimo, ma non necessariamente bisogna acquistare dei prodotti così finanziariamente complessi. Allora, in questi casi il consiglio che noi vi diamo è rivolgetevi alle associazioni di consumatori. Non è necessario che veniate da noi. Rivolgetevi all'associazione di consumatori, fatevi difendere. Non rimanete fermi, non rimanete inerti, altrimenti qui non si arriva da nessuna parte. Domani noi incontreremo il presidente Nicastro, presidente delle quattro Good Bank. Quello che gli diremo, chiaramente, staremo ad ascoltare che cosa ci dirà, ovviamente. E avremo occasione poi di farvelo presente attraverso l'associazione, attraverso Letizia Giorgiani, Silvia Battistelli, che anzi voglio ringraziare per averci invitato. Faremo a sentire che cosa ci diranno. Quello che gli diremo noi sarà molto semplice. Rimborsi per tutti. Non vogliamo elemosine, rimborsi per tutti, rimettere i soldi in tasca ai risparmiatori truffati. Parallelamente, se qualcuno di voi pensa di essere stato truffato, che si rivolga all'associazione di consumatori. Grazie. Adesso, qui sul palco, insieme a noi, Roberto Fiore, Forza Nuova. Ovviamente non c'è dubbio che migliaia di persone in Italia sono state truffate, in diversi modi e in diversi tempi. Le storie di orrore le abbiamo sentite tutti. Firme, apposte, false, poi arriva il perito, il perito nominato dal magistrato che dice che la firma non è falsa. Tantissime cose così. Ecco, io vorrei che la vostra tragedia si trasformasse in un atto di lotta, perché se voi iniziate a riunirvi, a combattere, moltissimi troveranno la forza. In città, ad esempio, dove ci sono state, sento dire, ci sono alcune città campane, dove magari certi poteri delle banche sono anche collegati con altri poteri, dove sono stati migliaia le persone nel tempo che sono state truffate. Tutta brava gente a cui non piace andare in piazza. E il fatto che oggi siate in piazza è un fatto positivo, importante. Però per me è importante dirvi anche un'altra cosa, che questo stato di cose è così non perché ci sono i truffatori, o non solamente perché ci sono i truffatori, ma perché c'è un potere politico marcio collegato con i poteri bancari che deve tenere il sistema così bloccato in questo modo per fare grandi profitti per pochi. Io poche settimane, attenzione, due anni fa ho presentato un esposto per un processo che è iniziato poche settimane fa, quello contro tutta la classe politica e contro Standard & Poor's e Morgan & Stanley a Trani. Lì, d'improvviso, il Presidente del Consiglio, nominato da dieci giorni, diede 7 miliardi di denaro delle nostre tasche a Morgan & Stanley e Standard & Poor's con un bonifico il 3 gennaio, quando la gente ancora stava stappando le bottiglie. Questo che cosa sta a significare? Che se il potere politico è agganciato in questo modo, direi, criminale al potere delle banche, l'unica rivolta possibile è quella popolare, dal basso, in ogni città. Io penso alla Toscana. Perché la Toscana deve essere martoriata in questo modo? Pensiamo a Siena, pensiamo ad Arezzo, una delle ragioni più organizzate, più belle, più turisticamente importanti, dove l'arte non appare al mondo. Ecco che lì si sono annidati gli usurai, le conventicole per fare grandi profitti loro. E allora l'unica cosa che vi posso oggi dire è andate, rimanete in piazza, prendete gente ogni giorno, contattate gente che in ogni città soffre. Anche oggi arriva la notizia di gente che si è suicidata, per motivi forse non sono gli stessi motivi, ma il clima è lo stesso. Il clima è di una grande usura che è andata al potere e che sta lasciando i lavoratori, la classe media italiana a terra. Quindi se deve essere rivolta popolare, che inizi da qui. Grazie. Mirko Tarroni, presentati da solo perché tanto ormai ti conosciamo. Eccolo qua, funziona. Ciao a tutti, sono Mirko Tarroni e vengo da Ferrara. Sono qui in rappresentanza e saluto i ragazzi di Empoli che sono stati... Bene, bene. Allora, dicevo sono qui in rappresentanza dei risparmiatori azzerati ferraresi. Sono qui per raccontare nello specifico la storia di Ferrara, ma apro una parentesi semplicemente perché la storia di Ferrara è esemplificativa del fatto che se eventualmente c'è stato un errore nel collocamento dei titoli, a Ferrara questa cosa è un pochettino più in ombra, nel senso che le obbligazioni a Ferrara risalgono le missioni delle obbligazioni molto tardo, 2006 e 2007 per la maggior parte. La storia di Ferrara è quella di una banca già vigilata a partire dal 2009 e quindi noi ci sentiamo meno truffati dalla banca, per l'amor di Dio se ci sono stati degli errori nel collocamento è giusto che vengano accertati, ma nel nostro caso è l'atteramento del governo che emerge nel suo essere clamoroso, nell'essere straordinariamente anomalo. La storia della Carife racconta di una vigilanza cominciata nel 2009 addirittura, quindi Banca Italia era dentro alla banca già per esempio dal 2013 con il commissariamento che è durato fino al 2015, di questo non si parla, io invito i giornalisti a venire a Ferrara, ad ascoltare questa storia, perché da questo si evince che andare a cercare delle responsabilità all'interno della banca, cosa sicuramente da fare se ci sono stati degli errori, ma non coglie esattamente nel segno, occorre capire come un commissariamento iniziato dal 2013 e terminato nel 2015, a luglio, con una proposta che era quella di salvare la banca con un intervento del fondo interbancario, era già una soluzione proposta dalla Banca d'Italia, pronta sul tavolo soltanto da adottare, come il fatto di avere già una soluzione sul banco si sia potuta trasformare improvvisamente dalla sera alla mattina incredibilmente in un baratro, in un inferno come quello che viviamo, avete visto le persone che sono salite sul palco prima? Non c'è bisogno di raccontarlo che non sono speculatori, basta venire qui e guardarli, basta ascoltarli, non c'è bisogno di una laurea per capire questa cosa, occorre semplicemente vedere che hanno un italiano stentato, che probabilmente sono a malapena in grado di riconoscere quello che viene scritto sul documento di sintesi di un titolo, per questo è inaccettabile, soprattutto per noi di Ferrara, ma ritengo che lo sia per tutti quelli coinvolti in questa faccenda, essere additati come speculatori, qui non stiamo parlando di speculatori, sono persone che sono rimaste incastrate, e qui vengo un tema cruciale, in un cambio di normativa, cioè abbiamo testimonianza da parte dei vertici di Banca Italia, dei vertici di Conso, dei vertici di Abi, attenzione, che questa normativa non doveva essere retroattiva, cosa vuol dire? Lo spiego così anche mia nipote di 5 anni lo può capire, che queste norme non dovevano essere, non dovevano riguardare titoli che erano già stati emessi, titoli che tutti noi oggi abbiamo in portafoglio, anche io sono nazionista della Cassa di Risparmio di Ferrara, dovevano riguardare soltanto i titoli di nuove missioni, titoli che dovevano andare a, non a piccoli risparmiatori, ma a investitori istituzionali si dice, a grandi investitori, non certo al pensionato, al commesso, all'impiegato, al camionista che abbiamo visto sul palco. Ecco, allora, richiamandoci a questi presupposti è fondamentale chiedere a gran voce al governo che trovi una soluzione perché non è possibile venire oggi e chiedere a noi di avere fiducia in questo sistema dopo che dalla sera alla mattina ci hanno cambiato le regole del gioco. Non si fa così. Io lo insegno a mia nipote che ha 5 anni, che quando gioca a nascondino non può barare a metà del gioco e inserire una regoluccia che fa comodo solo a qualcuno. Anche perché qui parliamo della tutela del diritto al risparmio, che è un diritto costituzionale, vuol dire che l'articolo 47 della Costituzione, come hanno già detto altri prima di me, va tutelato in maniera indiscriminata. L'arbitrato non è una soluzione, è parte del problema. Non possiamo dire restituiamo i soldi a questo e a quell'altro, no. Questo perché, tra parentesi, si parte dal presupposto che ci sia una truffa allo sportello. No, assolutamente no, ci ribelliamo a questa soluzione. Noi diciamo che il diritto al risparmio è un diritto che vale per tutti, per tutti, dal primo all'ultimo e ci tengo a sottolinearlo, per obbligazionisti e per azionisti. Questo deve essere ribadito a gran voce. Deve riguardare tutti, non possono essere gli ultimi della società a rimetterci. Grazie. Adesso Amedeo Gregori del Comitato Pizzoli, che voi conoscete benissimo. Grazie Letizia. Non è facile parlarvi da questo palco se il problema non fosse sentito. Ho comunque portato con me alcune riflessioni che penso possano rappresentare il pensiero di tutti e volevo condividerle con voi per trovare una strada comune contro questo governo e contro le misure che questo governo in una maniera molto scelerata ha orientato verso di noi danneggiandoci così duramente. Rappresento il Comitato di Pizzoli, ma penso che il tema sia trasversale. La nostra è un'associazione nata subito dopo il 22 novembre. Ci fa piacere che sul palco siano passati dei politici. Ci fa piacere che siano disegni anche diversi, non solo Lega, non solo 5 Stelle, anche Forza Italia. Chiunque deve darci supporto in questa nostra guerra. E vi dico perché. Vi dico che avevamo preparato una lettera aperta da pubblicare sui giornali, ma questa lettera non è stata facile regolarla sui giornali perché, come sapete, sono controllati dalle istituzioni. E allora l'appello lo faccio da questo palco, a tutte le istituzioni con queste parole. Oggi ci rivolgiamo a tutte le istituzioni, ai rappresentanti di tutte le forze politiche ad ogni livello, comunale, provinciale, regionale e nazionale. Noi vogliamo dire che la mera solidarietà verbale non ci basta più, non ci bastano più le parole di questi signori. Loro debbono singolarmente e pubblicamente dirci qual è la loro risposta alla nostra richiesta incondizionata di rimborso indicare dei risparmi persi. Tutti debbono dire effettivamente cosa possono fare per noi, non lo scaricabarile. E vi devo dire che in questi giorni abbiamo raggiunto molti onorevoli, molti senatori e lo sconcerto è stato quello di scoprire quanto poco loro sappiano del bail-in, quanto poco loro sappiano di quanto sia facile perdere risparmi. Eppure sono loro a votare questi provvedimenti, sono loro a volerli contro di noi. Dobbiamo cacciare questi inutili personaggi, sono dannosi, sono incompetenti, sono contro di noi. Dobbiamo dire a questi signori che ciascuno di loro si svegli dal torpore in cui li abbiamo lasciati, perché è finito questo torpore. Loro debbono essere al nostro servizio, non contro il nostro risparmio, le nostre famiglie, il nostro lavoro, la nostra vita di tutti i giorni. La soluzione ai problemi. Abbiamo molte proposte, abbiamo cercato di veicolarle nelle sedi opportune, ma i tecnicismi non ci interessano, non ci interessano le macchinazioni, non vogliamo entrare in meccanismi complessi come quelli dell'arbitrato, nelle quali dobbiamo andare a dimostrare di meritare i nostri risparmi. I nostri risparmi li hanno meritate le generazioni prima di noi e li hanno bruciati loro per noi. Da anni sentiamo parlare di come sia impossibile anche solo correggere le troppe grandi indecenze della casta, che invece continuano ad essere tutelate dalla politica come fossero diritti acquisiti. E invece è bastata una sola notte per cancellare il diritto acquisito più importante, il risparmio, il nostro risparmio, quello guadagnato, accantonato onestamente con il sudore della fronte, il diritto al futuro delle nuove generazioni, questo è il risparmio. Vedete, carissimi, se il nostro lavoro non fosse sempre più precario, se le nostre pensioni non fossero un sogno sempre meno vero, se i servizi essenziali come la sanità, il diritto alle cure non fossero sempre più difficili e sempre più al nostro carico, per sempre meno qualità, ma che necessità avremmo di risparmiare i soldi? E invece il risparmio è l'unica garanzia che siamo stati educati a costruirci da soli per dare un minimo di certezza al futuro dei nostri figli, capite? Eppure una notte di novembre qualcuno ha voluto anche questo, i nostri risparmi rubati per legge dello Stato e per colpa di qualcuno che lo Stato aiuterà a proteggere con tanti artifici, non è così? Ci diranno che i responsabili saranno individuati e colpiti? Sappiamo bene quanto questo non sia vero, specialmente nel nostro Paese. E allora penso che insieme a voi tutti quanti si possa dire alle istituzioni ci obbligate a tenere i nostri risparmi in banca, ci obbligate a pagare per tenerli lì, perché anche il semplice conto corrente non è gratis, ci obbligate a rischiare tenendoli in banca perché anche il conto corrente non è sicuro, ci obbligate a perderli tenendoli in banca, anzi lasciate che le banche li rubino e che li rubino pure per voi, questo diciamo alle istituzioni. alle istituzioni, diciamo, vi riteniamo tutte responsabili di questo ladrocinio, lo diciamo al governo per averlo pensato così ed averlo pianificato in tutti i dettagli contro di noi, lo diciamo al Parlamento perché il Parlamento va pieno di ignoranza e pieno di superficialità rispetto alla grandezza di questo problema e lo diciamo, signori, al Presidente della Repubblica per aver richiamato duramente le istituzioni nel discorso di fine anno, questo hanno scritto i giornali, ma a noi le parole del Presidente della Repubblica sono sembrate acqua fresca perché il Presidente della Repubblica ha promulgato una legge che va comunque contro il diritto al risparmio, che è un diritto costituzionale, questo diciamo. e a Banca d'Italia e Consob, finti organismi di garanzia, ma chi avete controllato? A chi scrivevate le vostre lettere riservatissime riguardanti tutto quello che succedeva ai nostri risparmi? Noi dovevamo essere informati di ciò che succedeva ai risparmi e messi sull'avviso in tempo per poterli ritirare e metterli a sicuro diversamente, lontano dalle banche e dunque oggi che cosa possiamo dire a questi signori? Vi sembra dunque questa educazione finanziaria? E' questa l'educazione che dovremmo tutti ricevere da voi? A voi diciamo solamente ridateci tutti i nostri soldi e purtroppo Banca d'Italia di queste cose si accorta il ritardo ed oggi scrive che sarebbe stata opportuna una maggiore gradualità nell'introduzione di queste misure ma dov'era Banca d'Italia quando anche come semplice organo consultivo poteva indirizzare il governo a fare scelte diverse prima di recepire il Belin nella maniera scellerata in cui è stata recepita in Italia e nella maniera scellerata con cui è stata anche anticipata prima dell'entrata in vigore ridateci tutti i nostri soldi, questo diciamo vedete noi siamo forse più attaccati di questi politici e di questa classe dirigente allo Stato di quanto lo siano loro ma abbiamo una forte determinazione e abbiamo la più semplice delle cose dalla nostra parte la verità la verità che quei soldi noi li abbiamo sudati e che qualcuno invece li ha rubati questo ci basta sapere per scalzare questa classe dirigente incompetente e dannosa per il nostro futuro e poi sono soldi nostri e allora diciamo ci avete finora trattato come carne da macello ma quella che credevate fosse la lana morbida di tante pecore adesso sarà la criniera di tanti leoni che verranno a prendervi perché siamo stupidi e la vostra incompetenza restituiteci subito i nostri disfarmi e nessuno si permetta di metterli a rischio vedete qualcuno al governo ha giustamente osservato diamo accoglienza ai migranti in modo che i loro figli non servino odio contro di noi quale sentimenti immagina il governo il Parlamento il Presidente della Repubblica quali sentimenti immaginano nell'animo dei nostri figli per avergli rubato il risparmio chi si è apposta a questa domanda? e allora care istituzioni non sentitevi disturbate per il fatto che noi tutti siamo già in Italia e che non occorre attraversare il mare per raggiungervi come oggi su questo palco cerchiamo di fare nell'intento di arrivare a voi e se oggi siamo tanti è sempre di più a dirvi senza condizioni ridateci tutti i nostri risparmi allora vieni pure Federica oggi in piazza qui con noi avrebbe dovuto esserci anche Giorgia Meloni che poi un imprevisto non ha potuto far sì che sia qui in piazza ma ha mandato una sua valida assistente che è Federica Nobilio Comitato Terra Nostra per Giorgia Meloni grazie Letizia buongiorno a tutti solo un saluto dal Comitato Terra Nostra italiani con Giorgia Meloni è un comitato che è nato da poco e non sono qui per parlarvi ovviamente del progetto politico non vi interessa ma quello che vi interessa è che un comitato che è nato in particolare su questo problema su questo problema il problema dei risparmiatori perché vedete il punto è che il governo di Renzi il governo del PD ha creato un conflitto sociale l'ha creato volutamente e quello che si sta tentando di fare è di mettere le persone di mettere gli italiani gli uni contro gli altri di andare proprio ad incidere su quelli che sono quelli che sono i bisogni primari allora il comitato di Terra Nostra che ripeto nasce soprattutto su questo problema della truffa e risparmiatori adesso partirà con un progetto lo lanceremo a breve quindi mi raccomando seguiteci in modo tale da poter sapere quello che si farà dove saremo presenti su tutte le piazze italiane a partire dall'Alta Italia fino al Sud e saremo presenti proprio per informare le persone per dare l'assistenza ciao ciao 5 Stelle per favore occupatevi degli interessi degli italiani grazie piuttosto che dei vostri allora saremo presenti su tutte le piazze proprio per informare i risparmiatori e per potervi parlare di quelle che sono le possibilità le possibilità di sostegno per chi è stato truffato dalle banche allora nei prossimi giorni quindi sul sito troverete tutto e quindi potrete informarvi in questo senso per questo io penso che sia importante sempre di più tenere presente quelli che sono i vostri diritti al di là del Sanva Banche che ha truffato tanti risparmiatori Renzi sta continuando ad andare in questa direzione avete sentito parlare probabilmente di questa cosa del bad bank quindi le banche che stanno fallendo che sono a rischio fallimento dovrebbero avere un contributo addirittura di 40 miliardi di euro pagati dalle tasche degli italiani con i risparmi dei cittadini per poter essere salvate allora quello che noi pensiamo è che se una banca non sta andando bene se una banca fallisce deve fallire lo deve fare con i suoi soldi non con i soldi di risparmiatori quindi noi siamo a sostegno con voi e avrete tutto il supporto da parte degli avvocati da parte dei numeri verdi per quello di cui avete bisogno grazie Luca Canale Popolari Vicenza buongiorno a tutti grazie intanto di essere qui in piazza per difendere una causa che è una causa di tutti i risparmiatori io sono qui oggi per parlare per l'associazione nazionale degli azionisti di Banca Popolare di Vicenza una banca che fino a qualche mese o anno fa era considerata una delle più solide del territorio e che raggruppava 117.000 soci questi soci sono per la stragrande maggioranza pensionati lavoratori dipendenti agricoltori piccoli imprenditori e sono stati convinti ad acquistare le proprie azioni grazie proprio alla reputazione di solidità della banca che veniva data sia dalla stampa locale sia dai commentatori professionali come associazione noi dovremmo affrontare il mese prossimo l'assemblea dei soci l'assemblea dei soci dove ci verrà richiesta la trasformazione in SPA un enorme aumento di capitale e la quotazione in borsa chiaramente senza senza delle garanzie per i soci noi non voteremo sì a queste a queste proposte però abbiamo bisogno che siano i soci in prima persona a muoverci la prima la prima manifestazione che è stata indetta dopo che è stato svalutato il titolo di Banca Popolare di Vicenza è stata organizzata da Casa del Consumatore eravamo in 24 persone davanti alla sede della banca chiaramente con questi numeri non possiamo andare da nessuna parte devono essere i soci deve essere la stampa a dare le informazioni corrette perché un pensionato che magari ha solo la terza o la quinta elementare non può essere al corrente di quali possono essere i cosi gli indici di solidità di una banca non è possibile che un prospetto informativo su un aumento di capitale o su un prestito obbligazionario sia di 800 pagine scritte in piccolo che neanche i tecnici riescono a comprendere dal 2001 a oggi sono state fatte sette ispezioni da parte di Banca d'Italia in Banca Popolare di Vicenza in ognuna di queste sette ispezioni è stato rilevato che il prezzo dell'azione era sovrastimato era stato gonfiato eppure hanno continuato a venderle sempre allo stesso modo queste relazioni della Banca d'Italia non sono mai state portate a conoscenza del pubblico per un presunto diritto di riservatezza della banca ma l'articolo 47 della Costituzione non tutela le banche tutela il risparmio privato tutela il risparmio di tutte queste persone che hanno creduto in una banca del territorio e che si sono trovate adesso senza nulla in mano alla politica noi chiediamo ben poco perché non speriamo che arrivino risposte dal governo attuale chiediamo che vengano intanto identificati i responsabili che hanno portato al tracollo tutte queste banche e che vengano applicate le leggi attuali non ci illudiamo che vengano date aiuti di Stato perché? perché quando si potevano dare in Italia non li hanno dati gli altri paesi la Germania la Francia l'Inghilterra hanno cominciato nel 2008 2009 2010 a salvare le banche qui da noi hanno sempre detto che il nostro sistema è solido e che non ce n'era bisogno adesso saltano fuori le banche venete che sono in difficoltà banca Etruria banca Marche Monte dei Paschi sicuramente come dice la signora che sono in difficoltà domani è già stato domani in senso metaforico è stato annunciato che metteranno male alle casse di credito cooperativo quante banche restaranno in Italia questo vi chiedo quante sono quelle solide poi in piazza ci sono anche alcuni esponenti delle forze dell'ordine ora io chiedo le forze dell'ordine se loro vedono un reato per strada mentre sono di pattuglia e si limitano a fare un rapportino quando rientrano in ufficio e a chiuderlo in un cassetto secondo voi hanno fatto il proprio dovere? questo è quello invece che hanno fatto Banca d'Italia e Consovo non hanno informato nessuno delle criticità che c'erano e quindi sono corresponsabili e conniventi con tutti i danni che sono stati causati ai risparmiatori e a parer mio devono risarcirci un'ultima cosa e poi cedo la parola i soci devono muoversi in prima persona le associazioni tra cui questi gli organizzatori di oggi che ringrazio intanto le associazioni non dispongono dei nominativi dei soci anche avendoli non possono fisicamente andare a contattare tutti i soci quindi devono essere i soci ad attivarsi ad informarsi ad avvicinare le associazioni perché non basta restare in poltrona e aspettare che qualcun altro ci tolga le castagne dal fuoco bisogna alzarci sarà difficile bisogna muoversi venire a Roma andare ad Arezzo andare a Vicenza andare a Udine dove ci saranno queste manifestazioni ed essere tutti assieme perché altrimenti non avremo nessuna risposta grazie l'ultimo intervento se non sbaglio in scaletta Andrea Vivi di nostra associazione vittime del salvabanche che tra l'altro era presente in delegazione con Padoan per sentire appunto la proposta dell'arbitrato Andrea io sono molto preoccupato lo ero già prima del 22 di novembre perché ho una figlia disoccupata da 7 anni una nuora che ha superato 30 anni e che non troverà mai lavoro un figliolo ha 32 anni che lavora ancora omi apprendista quindi ero estremamente preoccupato il fatto del salvabanche mi ha veramente messo grossi pulcini sulla testa io mi trovo cittadino di un paese dove è il governo che ruba e quindi tutte le forze dell'ordine che ci farano dai reati fuori dalle banche non ci proteggono né dentro le banche né dal nostro governo e la cosa che mi preoccupa ancora di più è che io ho sollecitato io ho votato PD per anni e ho anche votato Renzi alle primarie perché speravo in un cambiamento che migliorasse questo paese di cui ero preoccupato ho sollecitato i parlamentari del PD della mia zona l'onorevole Dallai e l'onorevole Scenni uno mi ha risposto solo una volta e poi non si è sentito più l'onorevole Scenni mi ha spiegato che lei aveva partecipato e che vedevano con questo fondo di misericordia lo dico io non lei di risolvere un po' i problemi ma i problemi erano grandi eccetera eccetera mi preoccupa che dentro il PD ci siano i rottamati e i rottamandi parlo di Chiti e della Bindi che sono del territorio toscano ma parlo anche di Bersani parlo di D'Alema questi erano tutti avversari di Renzi nessuno ha fatto pio in questa situazione loro potevano impedire che si approvasse il decreto salvabanche così come il nostro presidente della Repubblica che per dire buongiorno tiene il foglio in mano perché non sa se lo dice bene e che non si è pronunciato mai per queste cose in compenso abbiamo Renzi che va a ruota libera e spara cazzate la cosa che mi preoccupa è appunto che dentro il PD non si sia mosso nessuno che tutto va davanti che cosa vogliono? vogliono portare avanti questa situazione per arrivare a che cosa? a ribaltare Renzi e prenderne il posto e mantenere il potere? voi ricordatevi una cosa noi io ho fatto sono laureato in legge ho fatto diritto costituzionale credo che abbiamo la migliore costituzione che ci sia al mondo la vogliono cambiare invece di attuarla e la vogliono cambiare portandola dove? vogliono abolire il Senato per fare una sola camera dove ci sarà un premio di maggioranza sapete cosa vuol dire? che noi andando a votare la prossima volta con questa legge daremo un mandato per cinque anni a governanti come questi che abbiamo ora o come quelli che abbiamo avuto prima non ci sbagliamo che faranno quello che vogliono noi votando questa nuova costituzione autorizzeremo una dittatura e questo mi preoccupa perché oggi come oggi noi non possiamo aspettarci purtroppo da questi politici niente noi dovremo continuare a lottare io voglio sperare ancora perché comunque ho avuto rapporti con dei parlamentari di Cinque Stelle o della Lega che hanno manifestato buone intenzioni non ne hanno le forze perché poi quando si va in Senato a votare la fiducia al governo mi dispiace per non regolare da spargli ma il signor Ghedini va via ed è di Forza Italia perché non gli piaceva il testo ma come non ti piace il testo qui ci sono interessi di cittadini da tutelare non i propri posti abbiamo parlamentari che passano da una parte all'altra come si può fare per piazza è assurdo e vi ripeto mi dispiace io sono estremamente preoccupato anche se voglio sperare che riusciamo a risolvere la nostra situazione Siamo arrivati alla fine di questa altra tappa importantissima siamo ancora qui in piazza vuol dire che la nostra forza non si è esaurita perché questa è un'ingiustizia troppo grande quindi andremo avanti abbiamo la fuga da banca inizierà proprio da oggi molti hanno già trasferito i loro soldi fuori dalle banche perché noi non ci fidiamo di questo sistema bancario non ci fidiamo neanche del governo non ci fidiamo più di nessuno nessuno oggi potrà dirci che i nostri risparmi sono al sicuro non lo è stato fino adesso e non vedo perché visto che chi responsabile non si è dimesso dovrebbe tutelare maggiormente i nostri diritti i nostri risparmi io vorrei ringraziare soprattutto voi perché avete dato la forza a chi magari in maniera più pratica ha organizzato queste manifestazioni ma è proprio il vostro grido di rabbia il vostro grido di speranza che muove oggi la manifestazione potete ascoltare tutta la manifestazione e ne muoverà ancora tante altre perché noi non siamo disposti a cedere vi do appuntamento voi lo sapete la nostra associazione si chiama Vittime del Salvabanche potete collegarvi al nostro sito internet e avere sempre le informazioni su quello che stiamo facendo e poi sui percorsi più giusti da seguire almeno questo non vi lasceremo da soli e voi non lasciate soli noi grazie grazie a tutti grazie per essere stati qua con noi